Oggi una seduta del Consiglio Comunale dopo l'occupazione d'aula da parte dei consiglieri di minoranza, dopo l'episodio delle minacce fatte a Maurizio Micelli dal suo assessore. Cosa accade oggi in aula? Tra l'altro si parlerà dell'aumento delle indennità del sindaco e dei vari membri della Giunta. Cosa risponde a queste critiche così pesanti? Mi hanno raccontato della sceneggiata dei consiglieri di minoranza, che prima votano in conferenza di capigruppo che vogliono l'aumento, poi si incazzano, si può dire in tv, perché non essendoci bilancio non si può fare la delibera, c'è un ordine del giorno. Due, io non ho avvertito di minacce. Io ho avuto notizia che Abbruscato è stato abbondantemente e politicamente provocato e ha risposto in questa direzione per le rime. Siamo in un confronto dialettico, politico, acceso. Se qualcuno si sente offeso, si rivolga all'autorità giudiziaria. Diversamente penso che è ascrivibile in un contesto di un confronto politico, forse fuori dai toni, dai canoni, eccetera, ma ci sta... La vicenda che riguarda, questa è una considerazione che fa la giornalista, la vicenda che riguarda invece l'aumento delle indennità dei sindaci, degli assessori, dei presidenti dei consigli comunali, è una vicenda che a due anni a questa parte sta avvenendo in tutta Italia per legge dello Stato, con una chicca in più, che la regione siciliana al mese di giugno dà un contributo specifico. La giunta di Trapani ha deliberato un adeguamento dell'indennità in percentuale più contenuta, perché il contributo della regione è molto modesto, utilizzando solo quel contributo della regione, senza pesare di un centesimo sul bilancio comunale. I consiglieri dicono che quella somma può riuscire a coprire 5-6 mesi, lei che ne pensa? E così è. E poi? E poi, nel momento in cui il contributo è quello, con quello devi friggerti l'olio. Io auspico come... Non si ricorre alle casse comunali dopo? Assolutamente no, io auspico come l'Anci ha sostenuto anche a livello regionale che il governo Schifani metta tutti i 24 milioni, così come hanno fatto tutte le regioni e come ha fatto lo Stato in Italia. Sicilia ha difficoltà, lo dica, viene meno, è un impegno che ha assunto con l'Anci, non con Giacomo Tranchida. Molti comuni, peraltro, ci hanno messo già mani e addirittura hanno attinto anche alle casse del comune. Questo addirittura comune pure in condizioni di sesto, mi pare come Catania, che è dello stesso partito politico, del leader dell'opposizione di Fratelli Vitali.